Bella a tutti ragazzoli e benvenuti in questo nuovo video, sono Maullo941 e siamo tornati oggi con un nuovo video riguardante lo Stevenage Signori, continuiamo la scalata di questa classifica, prossima partita contro il Barov Eh, sì, niente, non fermiamoci troppo in chiacchie, troppo in dettagli Scendiamo subito in campo, però andiamo un attimino a sistema della squadra Perché ci sono il nostro Swiney che è distrutto e gioca Pier Gianni, gioca lui E a posto di Mateju facciamo giocare Wilding, che però è contento Allora gioca Smith che è scontento, così un attimino si tira su di morale Il resto della squadra è a posto, io direi che possiamo scendere in campo Per andarci a giocare i momenti clou contro il Barov Che nello scorso episodio abbiamo battuto in Coppa, passando al terzo turno di Carabao Cup Vediamo oggi cosa riusciamo a fare, signori Ci servono i tre punti, abbiamo sette punti in campionato E l'obiettivo minimo sono i playoff, signori Perché se non riusciamo a raggiungere i playoff subito a questa stagione La serie finisce, perché già partiamo molto indietro Se rallentiamo ancora di più rischiamo veramente di non riuscire a far nulla Praticamente a perdere un sacco di tempo per cercare di raggiungere la Premier Perché l'obiettivo è raggiungere la Premier il prima possibile Allora, signori, giochiamola con calma Giocala con un compagno lì, perfetto, così Guardalo, guardalo, guardalo No, porco, no, come ho perso già la palla Mamma mia Al sedicesimo Siamo in contropiede, allo Steven Si invola List Uno contro uno, nella metà campo avversaria List, 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 list Bravissimo List Si crea lo spazio, si ferma C'è il compagno libero, ma è troppo marcato Ma è libero, è troppo marcato Tiro, c'è subito il gol Grandissimo List L'ha segnato lui, sì Bravo List Compagno, c'era il tranello, signori C'è il tranello, se io facevo il passaggio per fare il gol della merda Mi avrebbero fregato, signori Mi avrebbero fregato Al sessantasesimo Calcio d'angolo per lo Steven H Chiede ancora in vantaggio 1-0 Reeves sulla palla Chiama il compagno Vediamo se arriva qualcuno Lo ha chiamato, ma è marcatissimo Però va bene Palla al compagno, attenzione Che entra in aria Entra in aria il compagno Cerca un compagno messo libero Grandissimo la girata La piazza 2-0 Non so chi sei? Numero 9 Forse è Norris Forse è il numero 9 È il nostro Norris Roberts Sì, Norris Ho visto un Norris finale È lui A meno che non sia qualcuno Di qualche agenzia Di polizia Però Dettaglio Azione loro, signori Al sessantottesimo Si svegliano Il Barrow Si sveglia Che però Non ci inciscano a centrocampo Ci inciscano a centrocampo Ci mandano a fagioli Ci mandano a fagioli Ma noi recuperiamo la palla E la spaziamo velocemente Barrow va contro in contropiede Vinciamo 2-0 ancora, signori Al sottantaduesimo Pallone loro Pallone loro Vediamo se si inventano qualcosa Ci inciscano ancora Cercano l'apertura sulla fascia La palla finisce fuori Ottimo È finisce qui Primi tre punti portati a casa, signori Buono così Buono così Primi tre punticini portati a casa Niente male L'episodio inizia bene L'episodio inizia bene List e Norris Sono contento I nostri due attaccanti Ci portano 3 punti Che non è per niente male Che non è per niente male Ora io non so Di preciso su chi stiamo facendo corsa Non mi ricordo Però non ci interessa Però dobbiamo semplicemente Pensare a mettere punti su punti Poi più in là Inizieremo a capire Su chi stiamo facendo la corsa Andiamo a vedere un attimino Chi è che parla Gioca di impegnare con la nazionale L'avevo già letto Mateju Non l'avevo già letto Nello scorso video Non mi ricordo Va bene Prossima partita È il giorno 30 Contro il Wacombe Che ha 0 punti Com'è? Ah no È il Papaya Jones Trophy Coppa signori Contro il Wacombe E il Fleet on Town Ok Un'altra coppa Il Papa Jones Trophy Va bene Andiamoci a giocare Il Papa Jones Trophy Va bene Come dicono loro La squadra Sono un po' stanchini Sono un po' stanchini Dobbiamo far qualche cambio Allora Io direi Cambia tutto l'attacco Con Raid e Rose Così facciamo giocare anche loro E non si arrabbia nessuno Raid è stanco E gioca Tinu Bu Che è fuori forma al massimo Ma gioca lui Gallardo Gioca al nostro Clark Kent Van Koot Van Koot Gioca West Perché Pia Gianni È un pochino stanco E poi Direi Non tocca più nulla Perché se cambiamo Roberts sulla sinistra Non abbiamo un sostituto Non è vero? No Va bene Va bene Giochiamo così signori Rischiamo un attimino Abbiamo fatto qualche sostituzione È buono perché così Facciamo giocare Tutta la squadra Però non è neanche buono Perché cambiando Tanti giocatori Si perde l'equilibrio Soprattutto magari Giocando così Somente i momenti clou Rischiamo un attimino Di perdere la stabilità Della squadra Ma noi siamo lo stephenage Signori E non ci importa nulla Esordio Nel papastrofi Cap Quello che è Va bene Un'altra coppa da giocarci E non ci ritrochiamo Senta il problema Giochiamo? Sì Palla per loro Poi lui Wicomb Wicomb Contropiede West 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 Lo attacca West se ne va No No Ci ha dribblato Che cazzo Non ha puntato il portiere Signori Non ha puntato il portiere Però non gli lasciamo Il complemente Non so cosa sia successo Però va bene Però va bene Contropiede ancora loro Due contro due No due contro quattro Abbiamo la difesa schierata Ma loro non ci attaccano Ci inciscano Ci inciscano Va bene Ci incischi E noi sta bene Riusciamo a fare un'azione noi? Sì Al trentasettesimo Lo Stevenage Esce in contropiede Con Tinubu Tinubu Che la Stoppa malissimo Ma riesce a far fuori Il centrocampista Attenzione Tinubu Tinubu Lento come poche cose al mondo Tinubu 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 Se ne va sulla fascia Nessuno lo segue Nessuno credeva in questa azione Di Tinubu Mamma mia Che brutta palla Calcio d'angolo Al sessantasettesimo Per lo Stevenage Attenzione Vediamo qualcosa Si inventa Bostic Che è entrato Sostituzione Bostic Era in panchina È entrato La serve Per Roberts Roberts Cerca il movimento Il momento che lo porta in aria Roberts 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 1-0 Dallo Stevenage Dai così Mamma mia Festeggia Sbattendo la schiena Vuole infortunarsi Per star fuori Mezza stagione Ma noi non lo faremo Stare fuori Mezza stagione Schmidt Azione loro Signore Direzione loro Vediamo se riusciamo A bloccarli subito No 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 Grande Chapman Che ha parato In una maniera terribile Però va bene così Attenzione Attenzione Di cross Per lo Stevenage Sul lato di destra Bostic La nostra colla La nostra colla Si ferma Si ferma Si ferma Cerca il movimento giusto Attenzione Non ne vede il compagno Libero Dacci Dacci Ma Ottantunesimo Contropiede Ancora per noi Raid Si imbolla Da solo Nella metra a campo Avversaria Contropiede Fulminio Raid Raid Solo Raid Solo Raid Solo Raid Solo Raid Solo Raid Solo Raid Punti pesanti Portate a casa In questa competizione Che non so bene Vincenzino Montella Sigron Gratural Con il collega E noi andiamo avanti Parate di ciappo Ma nel gol di Roberts E Rose Va bene così Va bene così Va bene così Va bene così E i tre punti In questa competizione Ce li siamo presi Ora dobbiamo avere L'altra partita Di campionato No la chiusura del mercato Se non sbaglio Infatti andiamo proprio Alla fine signori Si perché tanto Non abbiamo soldi Non abbiamo soldi Non possiamo Uprarare nessuno E non possiamo Vendere nessuno Vediamo un attimino La chat che parlava Che sta andando Oh sono arrivati Poi i giornamenti Tanta 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 carne al fuoco Calma Tanta carne al fuoco Tanta carne al fuoco Abbiamo seriamente Wilding Minacciata Sta andando benissimo Wilding mia Non ti preoccupare Taribo West Che dice Credevo che sarei stato Ceduto Invece ha deciso Di darmi una chance Che è stato permesso Di farla vedere Ho fiducia in te Bravo E in lista invece Le cose stanno andando Molto bene per noi Ultimamente Se quando ci tengo A giocare per lei Vorrei avere maggiore Ne riparleremo Ti sei incavolato? No È rimasto contento Va bene Allora signori Andiamo a vedere un attimino Qua gli aggiornamenti Dei nostri osservatori Dall'Inghilterra Estin Knovers 59-79 Assolutamente no Theo Peacock Peacock 56-78 No Morgan Nicholson 65-87 No Alexander Peters 48-64 No Dall'Inghilterra Non l'abbiamo trovato Niente di interessante Innes Dall'Irlanda Ci porta Roy Rice 64-86 No E Yankine 48-68 Mamma mia Non riusciamo a trovare Dei giocatori interessanti Dalla primavera Ma porca miseria Ultimo osservatore Dalla Scozia Uno solo Patrick Barr 59-79 Tra l'altro un portiere Mamma mia Uno aspetta tanto Sti cavolo di osservatori E poi praticamente Ti portano delle ciofeche assurde Ma noi che abbiamo Tanto così per capire un attimino Abbiamo un vivaio? C'è qualche giocatore Che è interessante Abbiamo De Sosa 17 anni Che è un 47 Potenziale 74-90 E poi Hamaline Finlandese 78-94 16 anni Stanno allenando Ma sono messi malissimo Sono messi malissimo Sembrano promettenti Ma sono messi proprio male Va bene Andiamoci a giocare L'ultima partita Anche per oggi signori Ultima partitozza Avanziamo Siamo contro Che è successo? Offerto per il trasferimento Vancouver Vancuten Trovate il mercato Attualmente chiuso No signori Il nostro titolare Vancuten No 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 Mi dispiace Un se ne parla Un se ne parla proprio De Verso gennaio Poi inizieremo a capire Se abbiamo dei giocatori Possiamo vendere E se ci sarà qualcuno Interessante da prendere Ma ora come ora Non se ne parla Siamo a 10 punti signori Andiamo a giocare contro L'Airpool Terza partita del video La squadra Mateju non c'è Perché è in nazionale Me lo fai sostituire O mi rompi le scatole Mateju Andiamo a mettere Per ora Piergianni Questo giocatore Non può scendere in campo Questa partita L'ho capito Che non può scendere in campo Me lo fai sostituire In qualche maniera No Va bene E allora fai quello che vuoi Schiera tu Chi vuoi Vanno le raccomandazioni Gioca a momenti club Sostituisci i giocatori Solo in questa partita Va bene Riuscissimo a fare 3 punti oggi Sarebbero 3 su 3 E non è male Perché comunque Sarebbero 6 punti in campionato Che è importante Signore È importante Ricordiamo l'obiettivo minimo Playoff In cui Poi l'anno prossimo Bello che non abbiamo Una squadra Per affrontare La prossima categoria E se continuiamo A stare così In premier Ci arriviamo Con delle ciofeche Di giocatori E non riusciremo mai A tenerla Però va bene Papa Maullo Da fiducia E credi In questa squadra Dai Che stiamo a fare L'hard pull Parte in contropiede Ok Lo vediamo di ferma subito Reed 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 Gallardo 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 Roberts 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 Raid Bravissimo Oh Oh L'avevo riconquistato Io sta cazzola De palla Nooo Ma porca Gallardo 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 Levate Sta palla Ok Ancora loro Calcio d'angolo Per l'hard pull Calcio d'angolo Per l'hard pull La vedo difficile Stanno attaccando al 33esimo Stanno attaccando tantissimo Questi E non mi piace per nulla De palla al centro campo Non c'è nessuno Buona così Staccalo Ammazzalo Stacco Ammazzalo Perfetto Pallone Dai L'abbiamo respinto E fuori Dai L'hanno persa Sta palla Ancora loro Al 49esimo Air pull In contropiede Siamo già al secondo tempo Stanno a giocare solo loro Questa volta Non mi piace per nulla Non riusciamo a fare un'azione Un'azione Non la riusciamo a fare Dagli così Palla riconquistata Mi fa fare un'azione Oh Finalmente Calcio d'angolo nostro Il 56esimo Reeves Sono a banderina Attenzione Guardi i compagni di squadra Perché fa un segno Con l'occhio Ma calma il compagno La palla Per Gallardo 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 Cerca lo spazio Gallardo 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 Gli lo lasciano Possesso E recuperati Ma ritarda il tiro Mannaggia a lui Mannaggia a lui Ha perso la palla Proprio quando la stavo Riconquistata Attenzione Contropiede Per lo Stevenage Da solo Norris Non la può sbagliare Norris 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 La stoffa di petto Attenzione Se la porta avanti Norris 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 Vede il compagno E 3 1 a 0 La sbocca lo Stevenage Con List Dai così 1 a 0 Buono 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 Bravo Norris Bravo Norris Altru East Ancora Al 66esimo L'Heartful C'ha un uomo in meno Un'espulsione Non sappiamo cosa sia successo Però va bene così A noi va di lusso Attenzione List Si gira E la piazza Doppietà di List Signori Doppietà di List Stop E la Proprio di Fino Palla nel 7 2 a 0 Calcio d'angolo ancora Per lo Stevenage All'88esimo Rose sulla banderina Rose sulla banderina Chiama ancora un compagno di squadra Arriva ancora lui Gallardo Che questa volta la tiene bene Gallardo 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 Non vuole partecipare Non si capisce cosa sia successo Ma al novantesimo L'arbitro fischia La fine della partita Ed è 2 a 0 Dall'Ostavine Contro l'Heartful Montella Si congratula Con l'allenatore avversario Si porta 3 punti a casa Tanti saluti A tutti quanti Senza nessun tipo di problema Dai così Doppietà di List E 3 punti Migliori in campo List con 10 Norris 9 E Sweeney 8 Va bene signori Abbiamo tenuto in difesa Quando c'era da tenere E poi gli abbiamo fatto Due belle pere E abbiamo portato 3 punti a casa Vediamo un attimino Ora La prossima Attenzione C'è un messaggio di posta Aggiornamento Al programma di crescita Va bene Questo li vedrò poi Tutti quanti dopo Andiamo a vedere la classifica Prima di chiudere questo episodio Siamo terzi Sia 13 punti Signori Siamo a un punto Dal primo posto Ma siamo a pari punti Comunque Con Lytton Orent Lytton Orent Noi ci vediamo sempre qui Sul canale Per un prossimo video E per continuare Queste belle serie Ciao raga